La legge non ha trovato respingimento sui suoi contenuti, bensì sulla copertura finanziaria che per quanto riguarda soprattutto gli anni a venire, 2020 e a seguire, avevano bisogno di una copertura che in regime di prorogazio perché il Consiglio regionale era sciolto non poteva essere assicurata nelle misure indicate. Pertanto quello che noi chiediamo è che si torni in Consiglio regionale, che si faccia salvo tutti i contenuti che non sono stati appunto osservati e si dia copertura, anzi denunciamo che in questo anno, nel 2019, la Giunta Lenta non ha avuto neanche l'accortezza di riprendere quel disegno di legge e coprirlo dal punto di vista economico. Voglio soltanto infine ricordare che alla Grande Pescara è giusto, era giusto ed è ancora più giusto oggi dare una risposta che andava nel senso di riequilibrare la presenza delle istituzioni nel nostro territorio regionale con quella norma che andava semplicemente coperta finanziariamente una volta tenutesi le elezioni.